Deep Dive Dubai Deep Dive Dubai è la piscina per immersioni più profonda del mondo. Con una profondità di oltre 60 metri è entrata nel Guinness dei primati. Mi trovo nella piscina di Deep Dive Dubai e con me c'è l'istruttrice Olga. Olga, da fuori questa sembra una piscina del tutto normale. Fidati, non è normale, ti faccio vedere. Andiamo. La vasca contiene 14 milioni di litri d'acqua, l'equivalente di 6 piscine olimpioniche. Per ragioni di sicurezza una camera iperbarica per 12 persone è sempre pronta in caso di malattia da decompressione o altre urgenze. Le telecamere subacque coprono ogni angolo della piscina. Con il sistema di filtraggio tecnologicamente più avanzato della regione, ci vogliono 16 ore per filtrare tutta l'acqua. Jared, ho notato in quello che chiamate il pozzo di immersione ed è assolutamente incredibile. Che cosa rende questa piscina così speciale? A differenza delle altre, questa piscina è una vera e propria città sommersa, con tutte le ultime tecnologie, oltre a essere un luogo straordinario da esplorare. Ci sono 56 telecamere e suono fino a 15 metri, così che possiamo comunicare con voi o mettere musica. E poi c'è un habitat subacqueo a 6 metri. Puoi salire a parlarne un po' con Olga all'asciutto. Dubai è una città situata sulla costa, con un oceano senza fine. Perché è necessaria una cosa del genere? È un enorme contributo all'industria subacquea nel mondo, ma anche a Dubai. Il miglior luogo per le immersioni è davvero lontano, a una giornata di auto. Noi forniamo accanto alla città un ambiente ottimale, 365 giorni all'anno, condizioni perfette per le immersioni. Ed è più per sub-esperti o per chiunque? È per tutti. Nel progettare la struttura abbiamo cercato di pensare a tutti, a chi non è mai stato in acqua prima e vuole solo pucciare i piedi, per così dire. Ma abbiamo anche voluto creare un'esperienza vincente per subacquei esperti e fornire anche un luogo per atleti, per l'apnea e per altri che potrebbero essere interessati ad allenarsi qui. Nel progettarla lei ha pensato questa è diversa da qualsiasi altra piscina che abbia mai visto. Quanto tempo ci ha voluto per crearla? È stata un'impresa complessa, un grande lavoro di squadra per molti anni. Ora siamo felici di condividerla. C'è qualche area che mi suggerisce di vedere? Devi assolutamente fare un giro in macchina. Magari può far guidare Olga. Potete discuterne, è molto divertente. Sì, faccio un altro giro con Olga per vedere che cosa c'è. La piscina dispone di 27 altoparlanti per inviare messaggi ai sub o semplicemente per creare atmosfera con della musica. A 6 e 21 metri di profondità si trovano due habitat sottomarini. Questo consente di emergere all'interno di uno spazio asciutto. È solo avvicinandosi al bordo del pozzo di immersione che si colgono le reali dimensioni di quest'enorme piscina. Pur galleggiando nell'acqua si insinua un curioso senso di vertigine. Più si scende in profondità più l'ambientazione diventa misteriosa. È il modo perfetto per allenarsi per le immersioni in acque profonde. L'attenzione ai dettagli e la creatività degli ideatori di quest'avventura subacquea sono sbalorditive. Grazie a tutti.